Siamo contentissimi di aver trovato questo risultato importante che ci dà tanto morale e ci proietta verso la prossima partita con maggiore sicurezza e serenità. Sono stato contento, diciamo che non c'è stata una grandissima emozione, comunque ero pronto per cui mi sono fatto trovare pronto anche nel ruolo non propriamente mio. Io credo che non è mai facile entrare dalla panchina perché soprattutto a livello fisico di fiato non è mai semplice però sappiamo che quando entriamo dobbiamo andare tutto perché il tempo è ristretto per cui devi subito spingere forte. Siamo entrati tutti e tre bene e meno male che tra l'altro poi tra una spizzata di gas e il gol di Gianluca è venuta fuori questa vittoria per cui meglio di così non poteva andare. Non dobbiamo mai mollare, non l'abbiamo mai fatto e non lo faremo mai per cui oggi sicuramente ci dà morale continuiamo a lavorare come stiamo facendo che abbiamo sempre lavorato bene. Il mister quando è arrivato ha lasciato tanta serenità, sta cercando di farci ritrovare la sua stima per cui dobbiamo proseguire su questa strada che è quella giusta.